Tutti con Conoscono San Minato al Monte, un luogo magico carico di bellezza e di storia appena sopra Firenze. Pochi sanno che accanto a questa chiesa c'è un'antica abbazia, un monastero, dove vive una comunità di monaci. Ci troviamo per una puntata speciale di intorno alle 9 all'interno di uno dei luoghi più nascosti del monastero, la sala del capitolo, per intervistare Don Bernardo Gianni, il pratese Don Bernardo Francesco Maria Gianni, nuovo abate di San Minato al Monte. Buonasera e grazie di essere con noi, di aver accolto questo invito. Cosa significa diventare abate? Abate è una parola che deriva dall'aramaico Abba, Padre, è una parola che ha pronunciato lo stesso Signore Gesù e anzi nessuno ha osato tradurre questo grido che lo stesso Signore Gesù rivolge al Padre, al Cielo, Abba. Nelle Tue mani affido il mio spirito e dunque in questo termine sta tutto il segno del servizio che sono chiamato a dover svolgere per i miei figli, essere loro padre e dunque manifestare, testimoniare, confermare le tre virtù fondamentali di ogni cammino nella sequela del Signore, la fede, la speranza e l'amore. I monaci hanno contribuito alla costruzione della civiltà e della civiltà cristiana nei primi secoli della Chiesa. Cosa significa diventare monaci all'inizio del terzo millennio? Il monaco di fatto incarna e tenta di vivere, se possibile di testimoniare, in realtà un desiderio che riteniamo intramontabile nel cuore dell'uomo. La ricerca, potremmo dire, dell'assoluto, se non vogliamo usare la parola Dio. E se invece la vogliamo e come dobbiamo usare la parola Dio, si tratta di quello che San Benedetto nella regola qualifica come il cercare Dio, quere redeum. Un monaco entra in monastero per cercare Dio, per avere nel cuore, riscoprire nel cuore, questo desiderio di penezza, di assolutezza, che solo il Signore sa assicurare e donare al nostro cuore. Liceale al Classico Cicognini, poi universitario all'Ateneo Fiorentino, come è nata la vocazione? È nata una notte speciale per la Chiesa e direi per il mondo intero, alla notte di Natale, ancora per tutti una notte in cui il tempo ha intensità e significati speciali, diversi dagli altri. Una notte in cui è bello accendere le luci e in cui ho avuto la grazia di un Dio che, facendosi piccolo come un bambino e piccolo, ha acceso nel mio cuore e nella sua notte una luce speciale di amore, di grazia, di senso, richiamandomi dalla mia erranza, dalla mia rassegnata non credenza nel suo mistero, ad un'esperienza viva e appassionata di Lui. Intuito il suo esserci, ho ritenuto immediatamente che valeva la pena cercarlo per tutta la vita ed è così che nella stessa notte dell'ormai abbastanza lontano 1992, nella Chiesa delle Benedettine di Rosano, ho ricevuto questo doppio dono di una vera e propria conversione e vocazione. Lei ha parlato di conversione, quindi ha vissuto alcuni anni lontano dalla Chiesa e dalla fede. Sì, non ho difficoltà ad ammetterlo perché fa risplendere più che mai la mia indegnità da un lato e dall'altro la sovrabbondanza della misericordia e dell'amore del Signore che si è fermato per chiamare chi di fatto era nella penombra del dubbio e del razziocinio, per così dire. E lo ha fatto, lo voglio ridire, davvero con tutta l'affidabilità di un Dio che è così grande da potersi fare piccolo nel volto e nella fragilità di un neonato. Ecco, quindi questa prospettiva che fino a qualche tempo prima mi sembrava esclusivamente fiabesca, quella notte mi persuase con l'intensità di un amore che si lascia credere, si lascia abbracciare e possibilmente imitare, proprio perché ci dice di un Dio che è in continua ricerca dell'uomo. E a San Mignato al Monte come è arrivato? Pochissimi giorni dopo perché non potevo farmi monaca a Rosano, ovviamente, dunque il monastero benedettino più vicino e dove peraltro viveva il monaco che celebrava la messa quella notte di Natale era a San Mignato e ho immediatamente percepito che questo era il luogo dove il Signore mi aspettava. Molti lo conoscono per il suo impegno attivo nei social network, non è una contraddizione questa per un monaco? Io non credo, anche perché in realtà di fatto la possibilità di comunicare con tante persone che comunque, come ormai ben sappiamo, vivono nella rete e la rete non intacca un'esperienza pura e importante della vita monastica, per non dire decisiva, cioè un certo senso di permanenza entro le mula del monastero che aiutano ad una particolare e intensa relazione col Signore e ti aiutano anche a scoprire questo dato misterioso del suo esserci. Di fatto però appunto, con un semplice ormai anche telefono, si può condividere intuizioni, immagini, percezioni che la vita monastica generosamente regala al nostro cuore e che con molta semplicità si verifica ampiamente amate, condivise, desiderate da moltitudini di persone che magari fanno una vita completamente diversa, ma che in un'immagine, una parola, riscoprono quel famoso desiderio appunto alla ricerca di Dio. Da un lato è il social network e dall'altro il silenzio. Come recuperarlo nella vita frastornata di oggi? Credo che gli uomini di oggi, se solo un poco avessero la possibilità di riscoprire il silenzio, non avrebbero più troppo timore di esso. Devo dire che anche in qualche occasione in cui diamo modo alle persone di attraversare il nostro monastero, di entrare in basilica magari nelle ore serali per un momento di preghiera o di condivisione, in realtà dopo qualche iniziale momento di sconcerto si riscopre nel silenzio anche qui una dimensione costitutiva del nostro essere uomini e donne, il silenzio come grembo di un'attesa importante, feconda, il silenzio come azzeramento di distrazione, il silenzio è anche come un vuoto che certamente può spaventare, ma che ti fa in qualche misura riscoprire quanto abbiamo bisogno di essere abbracciati, svegliati e accompagnati da una parola più forte delle nostre parole. Lei ha contribuito in modo significativo alla riflessione preparatoria del convegno ecclesiale di Firenze che è stata l'occasione per la visita del Santo Padre a Firenze e a Prato. Cosa resta dei messaggi che il Papa ha lanciato in queste due città? Credo resti un'agenda fitta di impegni, anzitutto per il nostro cuore, per riscoprire la centralità del Vangelo, del suo appello all'amore, all'attenzione alle antiche e nuove povertà, a incarnare nel quotidiano ciò che non deve mai correre il rischio di essere semplicemente ideologia di fede o di appartenenza ecclesiale. Significa un'agenda piena di sollecitudine verso coloro che riteniamo sbrigativamente i lontani e i distanti, un'agenda colma di impegni per tutti coloro che non intendono ridurre il Vangelo a semplice consolazione, ma avere propria ispirazione per il loro agire e anche per qualificare il nostro convivere civile e anche politico. E in particolare delle parole dettate dal Santo Padre dal pulpito di Donatello a Prato, cosa le è rimasto nel cuore? Credo davvero il suo appello ad una città e a una convivenza che qualifichi la dignità dell'uomo attraverso il lavoro, attraverso la giustizia, attraverso anche, come dire, il rinunciare ai propri interessi, alle proprie immediate sicurezze, nell'intuizione che sia da riscoprire come centrale per la nostra vita quest'idea antica e nello stesso tempo nuova del bene comune, ecco. E quindi questo mi sembra un aspetto molto importante. Tante persone arrivano a San Mignato, ma chi bussa alla vostra porta? Questo è un luogo che per la sua bellezza attrae le persone più varie e che sentiamo tutte interpellate da una bellezza che dice qualcosa di profondo all'uomo, di irriducibile all'immediatezza di un appagamento estetico esclusivamente formale e passeggero. E accanto a queste persone che si domandano poi il senso di una vita interamente spesa fra queste mura per dare canto a questa bellezza, per dare calore, a questa accoglienza, per dare significato alle proporzioni architettoniche di questo luogo, c'è tutta un'umanità indigente di senso e spesso va detto anche di cose che non esita a bussare alla nostra porta per qualsiasi genere di aiuto. Devo dire che in questi ultimi anni anche persone che vivono nella nostra città da sempre non si vergognano di domandarci aiuto, di domandarci o danare o piccoli sostegni per arrivare alla fine del mese. Questo denota una crisi che vorremmo con il nostro piccolo poter aiutare tutti a superare. E poi, certo, qui è un luogo anche circondato dal mistero della morte, c'è una parte del nostro monastero che è confinante col cemitero monumentale delle Porte Sante e sono gli antichi bisogni dell'uomo, la speranza, l'attesa di una vita che vada oltre i ristretti confini della nostra biologia, per così dire. Cosa porta nel cuore di Prato? Ma io della mia città porto, devo dire, tutto. Sono recentemente tornato per parlare di un architetto pratese che ha segnato la vita culturale, politica, civile e urbanistica della nostra città, ovvero Silvestro Bardazzi. Immergermi nelle sue pagine, guardare le sue opere, tornare, per così dire, in prima persona a interessarmi di Prato, mi ha fatto sentire nel cuore una nostalgia così intensa che quando in quel contesto, la Biboteca Lodezziriniana, ho letto di Silvestro Bardazzi che vivere a Prato, essere a Prato, lo diceva con accenti che ricordavano un po' Giorgio Lapira, non è per caso ma è sempre certamente per vocazione, devo dire che ho faticato a trattenere le lacrime. Cioè l'idea che non ti toglie dal cuore le radici, è un senso di identità anche civile e cittadina che neppure un monaco può dimenticare. Natale 2015, c'è una parola di speranza in particolare in questo anno? Di non temere perché il Signore, anche se talvolta sembra addormentato sulla poppa della nave in tempesta, in realtà il suo sopore è un sopore pieno di attenzione per la nostra vita. Ed è nella sua carne, nelle sofferenze della sua carne che sono, per così dire, trascritte le sofferenze di noi tutti, vicini e lontani, qualsiasi credo, convenzione si abbiano. Ogni sofferenza dell'uomo è trascritta nella carne del Signore Gesù ed è per questo che Lui è nato, vera carne per noi la notte di Betelèmme. E questo sentirci raccolti dal suo umano soffrire e trasfigurati dal suo divino sperare, credo che sia l'antica e nello stesso tempo sempre nuova e rigenerante speranza cristiana. E a Natale saranno in tanti a ricercare i vostri dolci. Come è nata questa attività e qual è il dolce che più le piace? Beh, la tradizione benedettina è una tradizione sempre molto attenta al lavoro, alla concretezza anche del lavoro e in fondo anche le cari consorelle pratesi di San Clemente a Prato le benedettine di San Clemente fanno dei biscotti quindi semmai abbiamo loro rubato l'idea ma molto semplicemente dovendo dare un lavoro a un buon numero grazie a Dio di novizi e professi temporanei un nostro fratello di origine libanese ha nelle mani questa capacità straordinaria di sprigionare bontà e abbiamo iniziato a imparare da vari ricettari le torte e i biscotti più vari e devo dire che questa cosa è iniziata anche un po' per scherzi è diventata veramente una piccola linea una piccola filiera imprenditoriale e devo dire dalle crostate alle torte alla cioccolata colesterolo a parte io amo qualsiasi dolce grazie allora auguri grazie a voi dell'attenzione per il servizio a cui è chiamato e che inizierà ufficialmente domenica e auguri per il Natale ormai prossimo grazie a voi e senza retorica devo dire che ogni sera quando vado a chiudere i cancelli davanti alla Basilica e lo sguardo si allunga verso Prato c'è sempre una preghiera per la città davvero grazie a tutti grazie a tutti